Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da un omicidio commesso a Masca Lucia nel Catanese durante una festa di compleanno, la festa per un diciottesimo di una ragazza. È stato tratto in arresto il suocero della vittima il quale ha coltellato appunto il genero. Vediamo il servizio. Una giornata di festa, i 18 anni di una ragazza trasformatasi in tragedia. È stato il suocero della vittima Giovanni Nicolosi, 60 anni, a uccidere Vincenzo Rizzotto, 42 anni, a Masca Lucia nel Catanese nel corso, come detto, di una festa di compleanno. Il sessantenne è stato tratto in arresto dai carabinieri per omicidio aggravato. Durante i festeggiamenti per il diciottesimo compleanno della figlia della vittima, il nonno della ragazza avrebbe avuto un dissidio con il genero compagno della figlia. La lite, cominciata in casa, è proseguita poi nel cortile condominiale e lì l'indagato avrebbe accoltellato Rizzotto, un solo fendente all'addome, sufficiente però a uccidere il 42enne. Nicolosi, prima della lite, avrebbe visto litigare la vittima con la figlia e la nipote nel cortile dell'edificio ed è andato a prendere un coltello da sub con cui ha accoltellato il genero. Sia l'assassino che la vittima, coi loro nuclei familiari, abitano nello stesso edificio in via Pablo Picasso. L'indagato, dopo l'arresto, è stato portato nella casa circondariale di Catania a Piazza Lanza. Un arresto anche a Catania si tratta di un 39enne che ha aggredito un anziano per rapinarlo, lo ha prima colpito con un grosso sasso alla testa, poi lo ha picchiato, infine lo ha lasciato per terra ricoperto di sangue. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato uno straniero di 39 anni senza fissa dimora per tentata rapina aggravata ai danni di un pensionato 82enne. L'aggressione è avvenuta in via Don Luigi Sturzo. Il malcapitato è stato improvvisamente raggiunto alle spalle dal 39enne, il quale, armato di una pietra di grosse dimensioni, lo ha colpito alla nuca facendolo cadere al suolo dopo aver perso l'equilibrio. Una volta a terra, il malvivente ha iniziato a infierire sull'anziano colpendolo con calce e pugni al volto per poi rovistare nelle tasche dei pantaloni e del giubbotto della vittima, fermandosi soltanto dopo aver capito che il pensionato non aveva denaro con sé. A quel punto l'aggressore ha lasciato il povero 82enne privo di forze sull'asfalto, con volto e nuca completamente insanguinati, allontanandosi tra i vicoli adiacenti per far perdere le proprie tracce. Fortunatamente un passante che transitava sul posto ha allertato il 112 consentendo l'intervento in pochi minuti di una pattuglia dei carabinieri che si sono accertati delle condizioni di salute del malcapitato facendo affluire sul posto un'ambulanza che lo ha trasportato presso il più vicino ospedale. Gli uomini dell'arma hanno quindi avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all'identità del rapinatore, fondamentale al riguardo, è stata la visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori sono risaliti in breve tempo al malvivente, ai suoi spostamenti e ai luoghi da lui solitamente frequentati. E' così scattata la caccia all'uomo che ha avuto il suo epilogo in meno di 24 ore quando i carabinieri lo hanno intercettato mentre vagava in via a 20 miglia con indosso ancora il giubbotto, la felpa e lo zaino in spalla che portava al momento dell'aggressione. Immediatamente bloccato e perquisito, i militari hanno quindi potuto accertare come l'uomo avesse con sé una busta di plastica al cui interno c'erano dei pantaloni intrisi di macchie di sangue che sono stati sequestrati per essere sottoposti ad accertamenti di laboratorio al fine di verificare la compatibilità con il sangue dell'anziano. Il 39enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere del malvivente presso la casa circondariale di Piazza Lanza. Sono quattro invece le persone, o meglio i giovani, arrestati dai carabinieri a Palermo. Sono i responsabili di un furto commesso in un distributore di carburanti, ma per tutti i dettagli. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia Palermo San Lorenzo e del nucleo radiomobile hanno tratto in arresto quattro giovani palermitani di età compresa tra i 26 e i 32 anni per furto aggravato. I militari dell'arma, a seguito di una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti per un furto presso un distributore di carburante sul lungomare Cristoforo Colombo e hanno iniziato a battere le diverse zone della città con il coordinamento della centrale operativa, riuscendo a intercettare i presunti autori a bordo di un'autovettura nella zona della Daura. I quattro, alla vista dei carabinieri, hanno tentato di scappare ma sono stati bloccati poco dopo, con ancora nell'abitacolo della vettura, la cassetta di sicurezza del distributore automatico di alimenti, installata presso il citato distributore contenente circa 150 euro, arnesi da scasso e un passamontagna. Da immediati accertamenti anche l'autovettura è risultata rubata e pertanto gli indagati sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per ricettazione. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari mentre la refurtiva è stata restituita all'avente diritto. Torniamo a Catania ma per parlare di spaccio di sostanze stupefacenti con i carabinieri che hanno scoperto una sorta di mini-market della droga in Via Lenitta. Sono due i pusher finiti in manette. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Fontana Rossa hanno tratto in arresto due catanesi di 31 e 27 anni, quest'ultimo in particolare già sottoposto anche alla sorveglianza speciale, entrambi responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari dell'arma stavano svolgendo uno specifico servizio contro lo smercio di droga nel quartiere di Librino quando nello spiazzo adibito a parcheggio di uno dei palazzi condominiali di Via Lenitta la loro attenzione è stata attirata dallo strano comportamento di un soggetto poi identificato nel 31enne il quale disinteressandosi delle persone con le quali stava colloquiando si è invece preoccupato di seguire le loro mosse. Era ovviamente una vedetta di supporto agli spacciatori. I carabinieri a quel punto hanno avviato un'attività di avvistamento discreta che evidenziando il continuo via vai di persone che entravano in quel civico uscendone dopo pochi minuti ha fugato ogni loro dubbio sull'esistenza dell'attività di spaccio in uno appartamenti che tra l'altro soltanto lo scorso 24 gennaio era stato sequestrato nel corso dell'esecuzione di 14 misure cautelari in carcere nell'ambito dell'attività investigativa denominata Sottosopra. Consapevoli della presenza delle telecamere nascoste dagli spacciatori i carabinieri si sono così accodati ad alcuni clienti e hanno fatto irruzione in quell'appartamento sfruttando l'apertura della porta per l'ingresso di un acquirente. Qui i militari hanno nuovamente trovato il trentunenne che prima li aveva seguiti per osservarne le mosse stavolta con la droga in mano che alla loro vista chiaramente sorpreso ha subito riposto sul tavolo nonché il ventisettenne che invece stava curando la visione del sofisticato impianto di videosorveglianza con quattro telecamere eluse dai carabinieri che sono invece riusciti a pizzicarli con le mani nel sacco. All'interno dell'appartamento su un tavolo sono state così recuperate tre dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio. Tre buste di plastica contenenti complessivamente una trentina di grammi circa della medesima sostanza e una decina di grammi di cocaina nonché un bilancino di precisione necessario materiale per il confezionamento della droga e la somma di 75 euro. Sequestrato infine anche il televisore collegato all'impianto di videosorveglianza che monitorava gli accessi al palazzo e sul pianerottolo. Tutto ciò mentre gli acquirenti continuavano ad affluire in quel mini market della droga per l'acquisto della loro dose salvo mestamente poi scoprire che chi gli apriva la porta era un carabiniere con la richiesta dei documenti per la loro identificazione. Stante inoltre i precedenti specifici del ventisettenne i militari dell'arma hanno perquisito anche la sua abitazione sita al piano sottostante all'interno della quale hanno altresì scovato la somma di 3.255 euro ovviamente sequestrata perché ritenuta provento dell'attività di spaccio. I due sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Restiamo in tema e restiamo nel Catanese ci spostiamo però virtualmente ad Acireale dove i carabinieri hanno beccato e tratto in arresto un ventenne spacciatore denunciato anche il fratello gemello. I carabinieri della compagnia di Acireale hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati predatori e in tema di stupefacenti per incrementare la sicurezza della popolazione e garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze dei cittadini in una cornice di decoro urbano. In questo contesto i militari della stazione di Acireale e di Aci Sant'Antonio nell'ambito di un più ampio servizio coordinato a largo raggio hanno arrestato in flagranza un ventenne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di droga denunciando anche il fratello gemello per il medesimo reato. In particolare i carabinieri impegnati nell'effettuare posti di controllo rafforzati lungo le principali vie d'accesso alla città di Acireale soprattutto presso lo svincolo della statale 114 nelle adiacenze di un parco commerciale hanno fermato tra gli altri il giovane conducente di un'auto che sin da subito ha manifestato una certa agitazione. Inquietudine che lo ha poi indotto all'apice della tensione a cercare di sfuggire agli operanti iniziando a correre nel momento in cui ha compreso che da lì a poco sarebbe stato perquisito. In quei concitati momenti i carabinieri che non si sono lasciati sorprendere dallo scatto del giovane lo hanno subito bloccato in sicurezza a pochi metri di distanza recuperando anche da terra un dispenser cilindrico di medicinali per l'influenza che il ventenne sperando di disfarsene senza essere visto aveva gettato via. Al suo interno il motivo del futile tentativo di liberarsene ovvero la presenza di sette dosi di cocaina. La perquisizione è stata chiaramente stesa anche al domicilio del giovane vicino il parco commerciale. Qui in prossimità della casa il ventenne scortato dai militari dell'arma ha iniziato improvvisamente a gridare cercando evidentemente di dare l'allarme a qualche familiare presente in casa in quel momento sull'arrivo imminente dei militari. Compresa la situazione la pattuglia è riuscita in pochi istanti ad accedere all'appartamento dove hanno trovato solo il fratello gemello del ragazzo bloccato anche lui in uno stato di forte nervosismo. Scattata così la perquisizione è apparso subito chiaro ai carabinieri il motivo delle grida di avviso perché in effetti su uno scaffale della cucina era poggiato un secondo dispenser identico a quello che aveva suo fratello con dentro altre quattro dosi di cocaina. Ancora è stato infine recuperato un foglio manoscritto con appunti relativi alla compravendita di droga nonché 100 euro in contanti considerati il ricavato dell'attività di spaccio. Per tali motivi il ventenne è stato arrestato in flagranza di reato mentre suo fratello è stato denunciato all'autorità giudiziaria per lo stesso reato. Cambiamo decisamente argomento parliamo di asili nido 4 milioni di euro per l'adeguamento delle strutture in Sicilia. Sono 26 le strutture siciliane per la prima infanzia che riceveranno dalla regione i finanziamenti per il sostegno agli investimenti per l'adeguamento delle strutture sedi di asili nido. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l'elenco delle domande degli enti del terzo settore che hanno avuto accesso alle risorse. In totale saranno assegnati circa 4 milioni di euro, somme derivanti dalla quota residuale delle risorse trasferite dal Fondo Nazionale per le politiche della famiglia. Vogliamo incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che fluiscono dei servizi di prima infanzia, promuovendo così l'integrazione tra soggetti del terzo settore no profit e le amministrazioni locali, ha dichiarato l'assessore della famiglia e delle politiche sociali Nuccia Albano. Così facendo, ha aggiunto, contribuiremo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali, promuovendo la piena inclusione, a sostenere la funzione educativa delle famiglie, ma anche a favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini e a incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ha concluso l'assessore Albano. Gli aiuti sono destinati agli enti no profit iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore o che avevano già presentato istanza di iscrizione al momento dell'adesione all'avviso pubblico. Il massimo importo finanziabile di 200 mila euro o il 90% dell'importo del progetto. I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono 14 in provincia di Palermo, 1 per provincia ad Agrigento, Caltanissetta, Messina e Siracusa, 6 in provincia di Catania e 2 in provincia di Trapani. Una bella storia che arriva da Acireale, una giovane dottoressa, Giussi Russo, che andrà in missione in Africa. Nella comunità parrocchiale di Pozzillo, frazione marinara di Acireale, è stato consegnato il mandato missionario a Giussi Russo, un giovane medico della parrocchia che ha scelto di fare un'esperienza in Angola. Il mandato le è stato affidato da Don Orazio Sciacca, direttore dell'ufficio missionario diocesano, da Don Giuseppe Pavone e dal parroco Don Andrea Grasso, che ha raccomandato la ragazza alla patrona Santa Margherita, donandole una spilla e il Santo Rosario. Un'opportunità straordinaria, ha dichiarato Don Orazio, per contribuire allo sviluppo delle comunità locali e crescere personalmente. Giussi Russo, già volontaria di Croce Rossa italiana nei comitati di Acireale e Udine, andrà in Angola all'inizio di marzo con il progetto Junior Project Officer di Medici con l'Africa, collegio universitario aspiranti medici missionari, all'interno di un programma di cooperazione sanitaria internazionale. Lavorerà su progetti di sanità pubblica a sostegno della salute materno-infantile. Il mio amore per l'Africa, ha dichiarato la dottoressa Russo, è nato quando ero ancora una bambina. Durante gli studi in medicina sono stata sul punto di partire, ma per un colpo di stato prima e per un'epidemia di ebola dopo non mi è stato possibile partecipare alla missione in Guinea-Bissau. L'Africa però mi è rimasta sempre nel cuore. Per il momento è tutto. A più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.